Cinque persone hanno tentato di rubare i cavi di rame dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza un ventenne, un ventunenne, un ventiduenne, un trentenne e un trentunenne, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Il personale addetto alla vigilanza privata questa notte ha segnalato un colpo in atto all'interno dell'ex presidio ospedaliero in via Plebiscito. I vigilantes hanno sentito dei rumori dei locali delle ex farmacie e notato cinque persone che sono scappate in auto dall'uscita dal lato di piazza Vaccarini. I militari hanno controllato la zona e rinvenuto dietro un muretto 50 metri di filo in guainato di rame che probabilmente i soggetti avevano prelevato da un tombino vicino con l'obiettivo di rubarlo. Sul posto uno zaino con una pinza, pappagallo e sul muro una cesoia, una tenaglia, una chiave inglese e un cacciavite. I militari si sono appostati nella strada senza uscita di piazza Vaccarini e la vettura ricercata è arrivata poco più tardi poiché i malfattori dovevano ultimare il colpo. Il conducente ha effettuato una retromarcia per eludere il controllo senza avere successo. All'interno del mezzo in uso al ventenne un grosso taglierino e una forbice per potatura. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto per il trentenne e per il trentunenne. I domiciliari per gli altri giovani l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Grazie. Grazie.